Questi due artisti che oggi sono ospitoni, è una fortuna insomma di averli piccicati, delle special guest, erano così in giro, infatti una arriva dalla Toscana, lui invece arriva direttamente da New York, vive in Germania, passava da Roma e infatti sono qua con noi, allora lui è Boise White e Ilaria Della Vidia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.